Come potete osservare l'acquario di Tom e Fiona è leggermente sporco dunque oggi lo puliremo insieme. Come prima cosa andiamo a pulire il fondo con un sifone rimuovendo eventuali scarti o feci. Dopodiché sempre con il sifone andiamo a rimuovere circa il 30% dell'acqua presente in acquario. A questo punto puliamo rapidamente le spugne del filtro strizzandole all'interno di un secchio contenente acqua presa dall'acquario. Mai pulire il filtro con acqua di rubinetto in quanto il cloro ucciderebbe tutti i batteri necessari per il nostro acquario. Fatto ciò riempiamo la vasca con acqua nuova e pulita ma soprattutto trattata con un biocondizionatore in modo da eliminare cloro e metalli pesanti. Per concludere rimuoviamo le alghe dal vetro con una piccola calamita ed il gioco è fatto!